Noi questo progetto l'abbiamo voluto realizzarlo fortemente, ci siamo riusciti, come ho detto prima, a spese del privato, quindi tutti i soci. Questa potrebbe essere una proposta per chi veramente vuole fare qualcosa per questa città, visto che oggi le risorse a tutti i livelli sono ormai quasi ridotte al lumicino e allora prendiamo iniziativa propria per rivalutare la nostra città. Noi abbiamo fatto la nostra parte, sfidiamo tante altre persone di buon senso e di buona volontà a fare quello che noi oggi abbiamo fatto. Auguri e complimenti. Grazie, grazie a voi.